Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori pannelli solari per camper. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la ViaSolarKit 100W. Il PowerKit Pro da 100 Watt, invece, è assolutamente il più costoso di tutti i pannelli fotovoltaici per camper che abbiamo effettivamente confrontato, ma è anche al top in termini di qualità e prestazioni, nonostante il fatto che la cella fotovoltaica sia realizzata con silicio policristallino, con un'efficacia leggermente inferiore rispetto alle celle realizzate con silicio monocristallino. Il kit Pro è costituito dal pannello solare. Al numero 4, abbiamo 50 Watt modulo. Off-Grid Tex è anche un pannello solare premium, ed è anche particolarmente costoso rispetto agli altri modelli valutati nella nostra guida, perché l'unità modulare da 50 Watt ha un prezzo praticamente fino a un pannello fotovoltaico a basso costo da 100 Watt. È realizzato in silicio monocristallino, messo in un telaio in alluminio e fissato da vetro temperato ESG, che offre un'elevata resistenza alla flessione. Al terzo posto, abbiamo la pannello solare 102pAV. Il pannello fotovoltaico SP15, commercializzato dalla società di prodotti elettronici Direct Importer, è un design top di gamma che si distingue per le sue spese ed efficienza davvero elevate. Infatti, è realizzato in silicio monocristallino e ha una potenza di 150 Watt. Appartiene a un pacchetto che comprende assistenza in alluminio, la ghiandola della televisione via cavo, 6 metri di cavo anti-UV e un regolatore 10A per due batterie. Al numero 2, abbiamo il EcoWorty L02P10N1. Con i costi dell'elettricità sempre tendenti verso l'alto, invernire la tua casa utilizzando pannelli solari come questo, gradualmente, ti consente di risparmiare molto. Tuttavia, offriremo informazioni incomplete se ci limitammo a questo esempio a causa del fatto che il pannello degno di Eco si approde per rollotte, rimorchi e barche. Realizzato in policristallino, il pannello da 102pAV è in grado di accumulare energia solare anche se installato in luoghi interessati dall'ombra per tutto il giorno. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Jaride 12V18V100WPAV. Il Jaride SPBM100 è un pannello solare di alta qualità sotto tutti gli aspetti, infatti è realizzato in silicio monocristallino ed è flessibile, con la capacità di seguire una curvatura regolare fino a 30, è eccezionalmente leggero, a soli 1,9 kg. E può essere montato quasi ovunque, sul sistema di copertura della tua casa, su auto e camion, barche, camper, cabine e persino tende da campeggio per la sua leggerezza e flessibilità. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.